ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video allora oggi volevo farvi capire un attimo come funziona la kukido e la cookie che non è altro che quella chiavetta mostruosa che trovate da attaccare al vostro bimbi niente se date un'occhiata sul sito la prima cosa che vi dice lì sotto è al termine dei sei mesi potrai rinnovare l'abbonamento kukido pagando 36 euro al mese andiamo a dare facciamo ok come se la volessimo comprare andiamo a vedere quanto costa costa 129 euro solo la chiavetta per sei mesi le ricette che avrete messo all'interno di questa chiavetta dopo sei mesi non saranno più visibili questo deve essere chiaro leggete le caratteristiche la sincronizzazione i dettagli del prodotto una volta concluso periodo di sei mesi potrei decidere se rinnovare o meno l'abbonamento così 36 euro al mese eccetera eccetera ok la chiavetta se la sincronizzate dopo il sesto mese che avete annullato tramite il vostro profilo l'abbonamento della chiavetta non avrete più nessun tipo di ricetta cioè fondamentalmente avete speso 129 euro di chiavetta per nulla se comprate le chiavette a 30 euro luna soprattutto se comprate quelle che vi interessano e basta fate meglio vedete vedete queste qua sono le mie collection sulle mie quelle che mi resteranno dopo che una è quella del bimbi base l'altra è quella che ti regalano appena ti scrivi a alla kukido che sono 12 ricette non è che sono 200.000 sono 12 ricette sono niente a differenza invece di quello che possiamo trovare sul su in esplora ok queste qui sono le mie ricette semplici le mie collezioni all'interno delle quali ci sono secondo tipo nelle mie ricette bimbi classiche non so sarà un centinaio e queste qua sono tutte 210 in totale tra un libricino e l'altro come se fossero dei dei libri mentre se andiamo a dare un'occhiata su esplora ci rendiamo conto di quante sono realmente le collection cioè le collezioni sono 240 passa queste qui e potrete tranquillamente aggiungere adesso vi faccio vedere come e le ricette sono 2009 e aumentano sempre in continuazione perché loro cosa fanno aumentano diciamo queste collezioni questi libricini ne aggiungono e tu li puoi aggiungere ai tuoi preferiti e semplicemente quando vai ad accendere il bimbi schiacci sulla sincronizzazione che sono quelle due freccette che vedete sullo schermino e vedete adesso questo l'ho già aggiunto c'è scritto rimuovere preferite dovete schiacciare aggiungere preferiti quelle ricette verranno caricate sulla vostra cookie quando quando la aggiornerete basta finisce qui poi queste ricette le perdete tutte dopo dovete semplicemente o copiarvele a penna o comprare le chiavette che vi servono continuare a pagare 36 euro al mese all'anno per